La Diatteva è una realtà importante sul territorio perché nasce nel 2002 come spin-off dell'Università di Urbino, quindi dall'assetto della ricerca specifica universitaria che si sposta verso l'industria, quindi come mettere a frutto sul territorio coinvolgendo tutte le persone del territorio i progetti di ricerca sviluppati in ambito universitario per farli diventare dei prodotti industriali. Entra a far parte del gruppo Sol nel 2012 e quindi sono dieci anni che parte del gruppo. Il gruppo ha investito tanto, cinque anni fa, in questa grande struttura che qua vedete, sono circa 2000 metri quadri e ci occupiamo di sviluppo di anticorpi e proteine di proprietà che nello specifico sono stati anche oggetto in parte del progetto Marche Biobank. In realtà noi siamo molto contenti perché è la nostra seconda esperienza con un bando finanziato dalla regione perché prima di Marche Biobank avevamo avuto anche il progetto PrintAge che era tutto focalizzato sull'antibiotico resistenza in ambito ospedaliero. Con Marche Biobank invece ci esportiamo in un settore molto più importante che è quello della medicina personalizzata, quindi come poter applicare nuovi farmaci biologici, quindi anticorpi monoclonali, per cure oncologiche in modo targettizzato e personalizzato sul paziente. Nell'ambito del progetto Marche Biobank in questi tre anni noi abbiamo sviluppato parte della ricerca preclinica e tossicologica sul nostro anticorpo, ma cosa ben più importante è stata realizzata la biobanca centralizzata e il laboratorio diffuso che permettono di conservare i campioni su cui viene fatta proprio la ricerca della medicina personalizzata che è il futuro di tante terapie nello specifico dell'oncologia. Noi stiamo facendo dei giri, anzi in realtà questo è l'ultimo, ne abbiamo fatti ben 12, di cui 5 generali dove abbiamo proprio presentato questi fondi europei a cui facevi riferimento nella loro complessità, perché sono tante le misure, uniscono due assi in modo specifico che sono il FESRE, due programmazioni, il FESRE e l'FSE e li abbiamo presentati in giro per le marche. Poi ci rivolgiamo adesso ai tavoli tematici, soprattutto relativamente a tutto quello che è lo sviluppo dell'innovazione e siamo qui perché comunque adesso l'ultimo tavolo rimasto era questo proprio dedicato alla salute e ovviamente la diatepa rappresenta una importante realtà rispetto proprio all'innovazione riguardo proprio a temi legati all'innovazione appunto della sanità e quindi la nostra presenza qui è per appunto testimoniare un'azienda che comunque è importante da questo punto di vista e oggi ci confronteremo con diversi imprenditori, diverse imprese proprio per dare delle informazioni rispetto a quelle che sono le possibilità, gli strumenti per ottenere diciamo questi finanziamenti ma allo stesso tempo per ascoltare se ci sono delle proposte ma nei giri che abbiamo fatto negli undici precedenti ci sono sempre stati degli importanti stimoli testimonianze e richieste appunto di cercare di inserire anche delle ulteriori questioni all'interno proprio di queste misure. Il progetto ora termina a giugno, devo dire che è stato un progetto molto sfidante perché voi dovete pensare che ci è stato assegnato nel dicembre del 2019 dopo solo tre mesi con il covid praticamente tutti i nostri piani di lavoro sono stati mandati all'aria quindi è stato veramente anche sfidante portare avanti tutta l'attività in questi tre anni di cui due erano di pandemia la biobanca comunque sarà pronta nei tempi previsti per l'ultimazione del progetto e i campioni potranno essere lì conservati fin da subito come altri output del progetto che sono alcuni kit diagnostici di medicina personalizzata per la sclerodermia e la fenilchetonumuria sempre personalizzati saranno pronti e industrializzati da subito altri progetti invece come quello degli anticorpi monoclonali essendo oggetto di fasi cliniche richiederanno anche delle fasi successive per leOW